Pesorofano 2, Montesilvano 2, risultato finale della partita di ritorno che grazie al 2-1 ottenuto dal Pesorofano all'andata ci consente di andare alle Final Four. Mr. Davide Gurini È stata una battaglia, ma è una cosa che sapevamo, quindi loro una squadra, come ho già detto in altre occasioni, molto molto preparata, hanno tenuto bene il primo tempo, al secondo tempo invece siamo venuti fuori più noi, siamo riusciti ad ottenere questo pareggio che secondo me è meritato, anche perché abbiamo avuto anche delle occasioni per passare addirittura in vantaggio, sono contento così. Alcune defezioni, alcuni giocatori a metà servizio, però è stato grande l'impegno di tutti. Sì, anche chi non era proprio nelle migliori condizioni ha dato tutto fino all'ultima goccia di sudore, e poi comunque anche le rotazioni che ho fatto hanno meritato la prestazione complessiva, sono stati tutti all'altezza. Ed ora alle Final Eight, un premio per tutti i ragazzi, per il mister e per la società? Premio sì, per la società, per i ragazzi, premio al mister Rosimani che tutta la settimana li allena, è un premio anche per me che ci combatto, quindi... Qualche dedica speciale per questo primo obiettivo raggiunto nella tua carriera? La dedico ai ragazzi, tutta di loro questo traguardo. Grazie mister. Prego.